Isola dei Famosi 2018 Isola dei Famosi 2018, anticipazioni prima puntata, Paola Di Benedetto riunita al gruppo, donne già divise, misteriosa presenza femminile Isola dei Famosi 13, la prima puntata in onda lunedì 22 gennaio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Vennie opinionisti e le incursioni della Jalapa Spendi in diretta Ecco cosa succederà Isola dei Famosi 2018, quali sono i naufraghi della prima puntata I concorrenti sono A questi si aggiungerà uno dei tre sfidanti arrivati alla finale di Saranno Isolani, il nuovo format via web, Dejanira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone che si contendono un posto sulle spiagge di Caio Scocchinos Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto è regolarmente atterrata dopo il giallo del passaporto smarrito La naufraga Paola Di Benedetto si è riunita al gruppo Lo smarrimento del suo passaporto aveva costretto l'ex madre natura di Caio Darbina a tornare in l'Italia, mettendo così a rischio la sua partecipazione Ma il successivo ritrovamento le ha consentito di volare nuovamente verso l'Honduras e raggiungere i naufraghi L'Isola dei Famosi 2018, concorrenti ripresi in villa con le telecamere nascoste Novità di questa edizione, per la prima volta i 17 concorrenti sono stati radunati all'interno di una villa e osservati molto da vicino Stefano De Martino, con una telecamera nascosta, racconta le prime dinamiche nate dalle difficoltà della convivenza forzata L'Isola dei Famosi 2018, le prime dinamiche con le donne già divise e una misteriosa presenza Il gruppo delle donne sembra già diviso, da un lato, le giovanissime Azei, Nasti, Capriotti, che hanno eletto il veterano Filippo Nardi a loro mentore, e, dall'altro, le più mature Mancini, Rinaldi, Enger, con Francesca Cipriani a fare da outsider e dirompenti animatrice E, ancora, il sensitivo Craig Warwick sarebbe entrato in contatto con una misteriosa presenza femminile proprio nella villa L'Isola dei Famosi 2018, prove e nomination nella prima puntata Prima giornata di prove per aggiudicarsi il titolo di Major Opeore e la possibilità di ottenere vantaggi fondamentali per la sopravvivenza sull'Isola Inoltre le prime nomination Grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori Che attraverso quattro canali, app Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS, possono decidere le sorti dei naufraghi